Ciao ciao ragazzi! Allora, vi faccio video velocemente questo breve video per darvi gli ultimi aggiornamenti per le prossime fiere per l'ultima settimana di maggio. Vi ricordo che da domani, al 14 e il 15 maggio, sabato e domenica, sarò presente allo SMAC in zona Genova al 105 Stadium, e non come l'anno scorso che lo facevano ai magazzini del cotone. Non porterò cosplay perché sono nel mio periodo e quindi non mi sembra il caso, mi sentirei molto a disagio a portare cosplay. Sarò presente entrambi i giorni, quindi se mi vedete lì in fiera, fermatemi e mi salutate, facciamo qualche foto insieme tranquillamente, anche un piccolo saluto. Poi la settimana prossima, mi pare il 22, che mi pare una domenica, il 22 di maggio, e sarò presente anche al Festival del Fumetto a Novegro. E non so ancora quale cosplay portare lì di domenica, quindi mi devo ancora vedere un attimino quale portare, a seconda naturalmente del tempo, come gira il tempo. E quindi più o meno è tutto. Naturalmente poi non vi sto a dire anche come sarà la fiera quindi da domani, quella dello SMAC, che essendo l'hanno spostata dai magazzini del cotone, è spostata al 105 Stadium, dove di solito ci fanno gli spettacoli, i musical, tutto, quindi immaginatevi quindi. Non vi sto a dire niente, quindi vi lascio voi libera scelta. E quindi più o meno è tutta la cosa. Se naturalmente scrivetemi con un piccolo commento qua sotto, chi sarà presente da domani allo SMAC e chi sarà presente poi a Novegro. E niente, più o meno questo è tutto quanto è riassunto. Fatemi sapere voi la vostra opinione sul Festival del Fumetto, sullo SMAC, perché secondo me aver preferito, non dico preferito, però mi sarebbe stato meglio di mio gradimento vederlo ai magazzini del cotone, piuttosto che vederlo al 105 Stadium. Comunque, lascio voi i commenti e niente, ci rivediamo poi direttamente domani. Ciao!